All Tide Madonna su Radio CRC Targato Italia in questo pomeriggio con i Fantastici Quattro c'è Totti Esposito C'è Sara Giglio ma non solo perché come abbiamo anticipato prima questa seconda ora insomma siamo in compagnia beh in dolce compagnia in bella compagnia in meravigliosa compagnia vado un poco meglio perché di solito insomma visto che devo stare con te adesso sono un po' più fortunata perché abbiamo anticipato che dobbiamo parlare di questo appuntamento che partirà con questo sabato 14 maggio a Giuliano perché si svolgeranno i festeggiamenti l'inizio dei festeggiamenti per la festa patronale dedicata alla Madonna della pace questo appuntamento ha un bel po' di sorprese perché è una cosa legata molto alla nostra tradizione però coinvolge in una maniera un po' particolare i piccolissimi e soprattutto delle bambine eh sì però prima di iniziare vorrei far salutare in primis la nostra piccola protagonista che è Clotilde che sta qui con noi ci fai un saluto al microfono? Ciao guarda che bella voce che c'ha Clotilde eh ecco lei sarà una degli angioletti che saranno protagonisti durante uno degli appuntamenti di questa festa però prima di dare la parola a lei fare avvicinare la zia Enza che l'ha accompagnata del Queen Studio per sapere un pochino come insomma di cosa parliamo nello specifico abbiamo detto questa festa inizierà sabato quattordici però ci sono degli appuntamenti a seguire. Benissimo io veramente dovrei dire poco ai veri giulianesi perché questa festa è così sentita che c'è una sorta di stampino che si ripete ogni anno quindi mi limito solo a ricordare che lunedì sedici e sabato eh ventuno eh ci sarà questa processione eh della Madonna della Pace molto sentita Giuliano ma soprattutto molto molto emozionante perché eh per chi viene da Giuliano e vede questa processione con eh queste centinaia di persone vestite di bianco che seguono il carro forse l'angelo passa in seconda linea l'angelo viene sentito in modo particolare dai parenti e chi vede la festa ancora come si viveva un tempo quando esisteva la vera festa paesana che ormai visto che Giuliano conta tanti tanti abitanti direi che non è più festa paesana ma una festa che direi cittadina se non insomma una festa molto più grande sentita forse a 360 gradi anche dal giulianese che è stato traslato a noi a noi piace utilizzare anche il termine di festa patronale perché è una nostra ricchezza secondo me queste sono le nostre tradizioni quindi non è detto che presentare un appuntamento con questo termine sia un qualcosa che insomma lo rimanda a un paesino di poche persone anzi a noi piacciono questi momenti perché ci fanno sentire tutti quanti come una bella famiglia e un'occasione in cui anche dei bambini possono avere uno spazio e cominciare a entrare nelle nostre tradizioni quindi ricordiamo un attimo l'appuntamento questo sabato comincia la festa lunedì 16 maggio e sabato 21 maggio ci saranno le processioni con il volo dell'angelo ad apertura e chiusura della processione domani cominceranno le prove perché dobbiamo anche sapere quali bambine perché sono quattro che interpreteranno gli angioletti e domani scopriremo soprattutto la nostra piccola clotilde saprà quando sarà il suo momento però prima di perché clotilde noi siamo molto curiosi su questa cosa che devi fare ti vogliamo dare un bel po' di spazio quindi adesso ci riprendiamo a sentire un po' di musica salutiamo un attimo il giornalista mariano fellico che sta riprendendo tutto per napoli web napoli nord web tv dnc cake by the ocean ecco magari loro chissà quanto possono essere tradizionalisti sono giovanissimi questo non lo possiamo sapere l'unica cosa che possiamo sapere in questo momento è che accanto a noi c'è una splendida bambina che si chiama clotilde che farà il volo dell'angelo però quello che dico io la voglio un po' descrivere perché c'ha i capelli biondi e gli occhi azzurri e quindi è perfetta ragazzi poi deve ancora saperlo no se quando lo deve fare se lo deve fare o no io ci metto pure la buona parola perché lei è adatta lei è emozionatissima però insomma toti ti deve fare una domandina su quello che sarà il tuo ruolo adesso domani saprai se ti toccherà lunedì 16 o sabato 21 però ci saranno tu e altre tre bambine che interpreteranno l'angelo toti la domanda che volevi fare alla nostra clotilde ma ne sono due la prima ecco che cos'è per te il volo dell'angelo per me il volo dell'angelo è arrivare da un balcone all'altro quando parto è l'angelo che parte e arriva e scende e poi sale sul carro e dice la poesia e alla madonna poi risale e arriva dall'altro al balcone bella ci ha spiegato alla perfezione perché sai noi non avevamo un'idea molto precisa poi soprattutto toti lui è uno di quello che ha studiato poco non capisco me niente poi c'ho la seconda domanda vai come ti senti emozionata ti piace il sogno si avvera mi piace e sono molto emozionata brava 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 e bella e me vuoi dire qualcosa ci saranno sicuramente le altre tre ragazzine che faranno il volo con te ci saranno ascoltando vuoi dire qualcosa anche a loro agli altri angioletti sì sì le fa così così vuol dire ecco voglio augurare a tutti una bella festa e soprattutto un in bocca al lupo salutale dai almeno salutale ciao vi voglio bene ecco ciao angioletti noi anche i fantastici 4 ci accodiamo a questo saluto io ripasso un attimo la parola a zia enza quindi insomma questo appuntamento il volo dell'angelo domani ci saranno le prove sapremo le bambine con quale ordine si esibiranno e tutto comincerà questo sabato 14 a giuliano e poi il 16 e il 21 maggio per assistere alla processione vuoi dire qualcosa per andare a chiudere in maniera con tutte le illuminazioni tutte le informazioni necessarie per partecipare ed essere presenti benissimo sì io voglio solo ricordare ben poco come dicevo prima perché è una festa molto sentita pertanto le date e sei stata tu molto esauriente nella descrizione io voglio solo se mi è concesso e esperto esprimere quello che sento in questo momento io sono emozionata due volte prima come madrina di questa principessa che fa questa esperienza bellissima e poi anche come maestra del quinto circolo perché lei è un angioletto che frequenta il quinto circolo non mi rimane che augurarti il meglio e un grande in bocca al lupo per questa esperienza indelebile ma purissimi si sono emozionati tantissimo anche i fantastici quattro e tutta radio ci recicli ovviamente media partner dell'evento noi facciamo anche noi il nostro in bocca al lupo alle bambini a tutte le persone che non mancheranno a questo assolutamente no ringraziamo ancora mariano fellico che sta facendo le riprese qui in diretta per napoli nord web tv e quindi non ci resta altro che ricordare mi raccomando questo fine settimana ci vediamo a giugliano tutti a giugliano per la festa per la madonna della pace noi intanto torniamo alla musica Shakira